Dopo tanti anni di abitazione in questa casa, dopo averci cresciuto due figli e aver visto sempre il cielo sereno, grigio, di tutti i colori, adesso mi alzo la mattina e vedo solo una barriera, un muro, la sera non si vede il cielo stellato, non si vede nulla. Oltre a questo non è tanto un problema anche di colori, è un problema ambientale, in cui noi avevamo aria, sole, vento, tutto quello che le stagioni ci portavano. Adesso abbiamo soltanto una chiusura totale. Il rumore della ferrovia le dava così fastidio? Assolutamente no, anche perché se le devo essere sincera, adesso lo sentiamo più di prima e peggio di prima. Io le dicevo prima che ho due figli, di cui il secondo è cresciuto con il rumore del treno, gli faceva da nina nanna, per cui per noi non è assolutamente migliorata la nostra vita, anzi, loro in questo modo ce l'hanno soltanto peggiorata, perché come lei ha fatto vedere dalla mia finestra, noi ogni mattina vediamo questo scempio. Maria Carmela ci fa entrare a casa e ben spiega che significa vivere lungo il tracciato ferroviario nel cuore di Montesilvano dopo l'installazione delle barriere antirumore. Non è la sola da avere il problema, ma sono circa un centinaio le famiglie interessate. Il quartiere è quello di Villa Canonico, il tratto è quello compreso tra Viale Abruzzo e Via Salentina. Un nuovo muro di Berlino, commento, un residente che è diventato anche il portavoce dei malcapitati e che di fatto è riuscito intanto a bloccare i lavori, nonostante il progetto preveda la copertura realizzabile in quattro anni da Via Perlasca a Via Verrotti. Il 1989, quando è crollato, evidentemente lo hanno rifatto con Montesilvano Centro. Come vede, in realtà è un obbrobrio. Ma penso che neanche tecnicamente nel 2023, sono progetti questi molto datati, penso che qualche cosa di meglio si poteva fare. Guardando dall'alto, li vede Montesilvano Centro, la futura zona nord della Grande Pescara che è attraversata da un sistema di protezione che probabilmente invece di risolvere il problema dell'inquinamento acustico sta creando problemi dal punto di vista dell'impatto ambientale di una cittadina a vocazione turistica. Come sono fatti questi pannelli? Quelli che vediamo per esempio alle nostre spalle, di che cosa sono fatti? Questi sono fatti in acciaio, con un colore tra l'altro neanche attinente forse all'ambiente marino in cui viviamo ma che hanno alla base dei blocchi di cemento prefabbricati e uno in cemento armato e le altezze raggiungono dal livello del binario 15 metri, che non è poco, palazzo di Cinque Piane. Intanto l'amministrazione fa sapere che entro la settimana prossima ci sarà un incontro risolutivo con RFI.